Buongiorno dal Tg della Mobilità. Oggi e domani due giorni di zona rossa in tutta Italia, vietati gli spostamenti tranne per esigenze di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute che vanno comunque giustificati con il modulo dell'autodichiarazione da portare sempre con sé, vietati anche gli spostamenti tra le regioni e dal 7 gennaio nuova stretta per contenere i contagi da Covid-19, lo prevede il decreto varato ieri notte dal governo sino al 15 gennaio. Ancora una volta vietati gli spostamenti da una regione all'altra, il 7 e l'8 gennaio saranno in fascia gialla, il 9 e il 10 gennaio saranno due giorni arancioni con il divieto di uscire dal proprio comune. Resta in vigore poi in tutta Italia il divieto di spostamento di notte dalle 22 alle 5. Intanto oggi sulla rete del trasporto pubblico in vigore l'orario feriale con le ultime corse delle metropolitane alle 23 e 30. Regolari le linee bus notturne, domani normale, orario festivo sull'intera rete. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti nelle prossime edizioni del Tg della Mobilità.